Ben ritrovati amici del centro meteo italiano, fronte instabile che si sposta verso le regioni del sud. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 21 gennaio. Precipitazioni sparse al mattino su medio versante adriatico e sud, neve tra i 600 metri dell'appenino centrale e ai 1000-1200 di quello meridionale, asciutto al nord con nubi basse in Val Padana. Al pomeriggio tempo instabile al sud con piogge sparse su settori peninsulari e Sicilia, residui precipitazioni anche su Abruzzo e Basso Lazio, maggiori schiarite al nord. Il serato è notato acquazzoni sparsi su Calabria e Sicilia, pio asciutto altrove ma con nebbio e nubi basse sulla pianura padana. Temperature minime e massime in calo al centro nord e il locale aumento al sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.